Se arriviamo a 2.000 like, gambe insieme io e lui. Mi fa paura la cosa ma mi piacerebbe perché fratelli e sorelle muoio. Arriviamo a sti 2.000 like. Bravo. Già vado un attimo a vedermi. Ragazzi, il nostro amico è andato a controllare se i muscoli ci sono e non sono scappati. Oggi vedrete quanto sono scarso. Ma va bene così. Ogni tanto va fatto uscire un po' di umiltà. Non sempre. Bisogna fare i migliori. Ciao piccoli. Come state? 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 6. 7. Meglio di prima, forza, bravo. Ancuno. La sua forza. Stop. Beh, le prime le ho sentite bene. Te l'ho detto, e tu vuole di calare. Le prime le ho sentite bene. Fino a una sei, lo sentite bene, poi basta. È l'ultima serie questa va? Sì. Abbiamo scalato? Ma che è, è scalata. Ma perché è scalata? Adesso non ho p***a. Dai. Abbiamo scalato, ragazzi miei, l'ultima serie. Li do una manina ancora e poi passeremo al prossimo esercizio. One. Two. Three. Four. Five. Six. Dai, let's go, let's go. Da qua riesco a darti una mano, dai. Up. Yes. Cora. Andiamo. Cora. L'altra, l'ultima. Stop. Questa. Ragazzi, comunque, prima ho messo quattro pizze per lato, per far capire a sto cazzone che il peso non va a me abbassato. Le ho fatte, sapendo ancora prima di iniziare che non le avevo. Perché siamo sabato, dopo quattro giorni di allenamento intensi. Siamo al quinto allenamento della settimana, sono bello sfiancato, sapevo ancora prima di iniziare che non le avevo. Ma da giusto spotter avrei fatto una mossa stupidissima, non lo sarei riuscito a caricare se avessi mantenuto lo stesso peso con il discorso che gli ho fatto prima. Allora ho messo su quella pizza in più per lato, per fargli capire. Così almeno non se la mangia. Per starmi dietro doveva tenere il carico che aveva fatto prima. Quindi è solo stato uno sprono mentale nei suoi confronti e anche nei miei confronti. Perché quattro pizze per lato qua le ho già fatte a volte, magari quando lo avevamo come secondo esercizio, primo esercizio. Quindi so benissimo di averle due, uno, due, tre, quattro, cinque, forza, sei, non mollare, forza, ancora due, forza, forza, ultima. Ah, che male zio. Quarto esercizio per il petto sotto una luce bellissima, formidabile, direi ottima. Ma quanti set, quanti colpi, dine un po'. Tre. Ok. QB. Ok. Quanto basta? Sto ascoltando. Segreto per essere grossi ragazzi miei, burro al testosterone, lo trovate solamente sullo shop di Riccardo. Codice sconto ferro se volete il 10% di sconto, ok? Professionalità. Ricky, professionalità. Professionalità. Devo darti il buon esempio. Ok, allora, domanda. Mento bello alto, così. Domanda. Vai. Quando fai la pack deck? Ma tu lo tiri sul gomito o no? Tanti, a livello articolare, la fanno così. Per salvaguardare il gomito. Però mi trovo bene così. Dai come la fai? Ok, la faccio così. Buon basso. Siamo sulle 10-12, no? Sempre, sì. Buono fa. Ok, stop. Quanto hai messo? 100? 15. 115? Ah, quindi non tutto il pacco. Scusa. Non lo sapevo. No, vabbè, ma... Faccio 6 colpi tutto il pacco pesi. Eh, vedi, vedi. 10-12. 10-12. Oh, è partita la sfida, cazzo. Vai, vai, vai. Anch'io. Sì, che poi non è la pac-tech dove mi allenò. Picchia parecchio questa. No, no. Io ho messo 55 prima e sembrava 100 di quella che ho io, quindi... Pesante, molto pesante. Io nella vecchia palestra facevo tutto con un solo braccio. Cioè, ho provato. Perché i pesi pesavano meno. Pochissimo. 1-2-3-4-5-6-7-8-7-8-8-8-8-8. Ecco, cazzi. Non ci colpi con 100. Vabbè, lo provarò anche me va. Tanti cazzi sono, full stack, 140. Te la stacco io. Fammi sentire solo. Vai. Dammi una mano iniziale. Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi tirare fuori il chakra. Forza, eh. Un momento. Bravo. Forza, 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 a quattro. Un, tre, due, forza, forza. Stop, bro. Un, due, tre, quattro. Dai zio, c'è uno. Sei, da solo. Sette, una passeggiata al parco, zio dai. Sta per diventare una guerra. Siamo entrati. Siamo entrati in guerra. Dai, siamo entrati. Siamo entrati. Dai che siamo entrati. Dai. Dai, let's go. Chiedi, vai, chiedi, vai, chiedi, vai, 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 vai. Mamma mia, bro, ma mi sta facendo diventare una quinta, cazzo. Regisena, se vuoi, ce l'abbiamo. Ultima mia, bro, dai. Ok, la controllate, questa è l'ultima. Mento alto. Esatto. Forza. Metto, 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 sempre alto. Forza, ancora tre. Due con me, forza. Forza. Ultima. Ma ne abbiamo altri, giusto altri due esercizi? Faremo altri due esercizi di apertura. Questa fantastica macchina che replica praticamente le croci con i manubri su panca inclinata, però dà un feeling molto più costante a livello di contrazione e stretch. Ok. E poi faremo due serie finali ai cavi. Abbiamo abbassato il volume da tre serie previste a due perché abbiamo spinto veramente tanto e perché siamo belli cotti. Le prime volte avevo questa fissa di arrivare per forza, se era una serie da otto colpi, per forza dovevo arrivare a otto colpi. Mai di più, mai di meno. Questo significa che se mettevo un peso più basso, a prescindere dovevo fare otto colpi. Se mettevo un peso più alto, era un fallimento se ne avessi fatti solo sei, anziché otto. Poi, allenandomi con il team Presti, in particolare Andrea, mi hanno giustamente convinto del fatto che non esiste una scheda magica, esiste solo un allenamento che ti dà più o meno risultati. L'allenamento che, su di me, poi uno può condividere o meno, ma qui all'interno del team Presti la pensiamo così e quindi porto la mia idea. L'allenamento che ci ha dato e, in particolare a me, più risultati è il cedimento. Sei impostato correttamente con l'altezza del seglino? Cazzo ne so. Bello è avere un compagno di allenamento così convinto. Questa un attimo, calma. Vai, braccia distese, solo un piccolo... Madonna, che cazzo è? Dai Fra, sono 20 kg. Ma è fin lì, ho capito il peso. Ok, ok, ho capito. Semplicemente tenere un po' di flessione per scaricare un po' di tensione dal gomito. Sì, sì, sto così. Esatto. E poi non è leggera, ti dico la verità. Tu mi hai detto 20 kg, 20 kg, ma sinceramente, ragazzo mio, si sentono veramente pesanti queste. Ma è già serie allenante, zio, ma non ne fai una di avvicinamento, zero. Sinchia, ma te sei un malato, cazzo. Quanto sei? No, junk volume. Questo, come avevo detto, magari si scalda un attimo. Però mi fa piacere. Sai perché? Perché almeno userò il tuo stesso peso. Ragazzi, glielo dite voi che la prossima la faccio con Trent. Mi raccomando, la tensione è qua fin dall'inizio. Stretch sempre al massimo. Devi pensare di spingere fuori le mie dita. Mirko fila, non passare tu, sennò mi fai sembrare piccolo, cazzo. Seconda serie per mio fratallo. Io ti aiuto le ultime a chiudere basta. Dai, vabbè. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sarte. Otto. Ultima, fai. Dai. Sto. Sto. Controllato come prima. Dai. Mi hai vero culo di un cazzo, ci sono qua io. Forza. Forza. Non accelerare. No, ditele. Contrazione. Sempre. Allunga. Forza, forza, forza. Ultima. Stop. Vado a casa che ho due chili di massa magra in più, zio. Questo è importante. Questo è molto importante. Siamo arrivati, giunti all'ultimo esercizio di petto. Andremo alle croci. Esattamente. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Perché questi contenuti, non so chi è che li porta. Se arriviamo a duemila like, gambe insieme io e lui. Mi fa paura la cosa, ma mi piacerebbe perché fratelli e sorelle muoio. Arriviamo a sti duemila like. Che muoio con lui a fare le gambe, va. Quante rap? Dai, dimmi. 12-10. Due rap. Due serie, due rap. Quattro colpi abbiamo finito. Sta un pochino più aperto. Devi reclutare il petto, non il trapezio, le spalle. Testa più sugro. Forza, forza, forza. Fino alla fine. Vediamo un po' se il nostro caro amato Ricky, anzi il pupillo. Quante serie riuscirò a fare con 24 e mezzo? Io ho utilizzato il 17 e mezzo, raga, è veramente pesante. Però dai, c'è la scusa anche del peso, Ricky. Dai, sono meno pesante. C'è un'altra variazione che mi piace un sacco. Vai. O questa, come hai appena eseguito tu. Così è dato. Oppure esatto. Mi porto un pochino più indietro con i piedi. Sì. Con l'appoggio. Mi incurvo così, do al massimo stretch, quasi ad aprire ancora di più così per reclutare maggiormente le fribbe del petto. E poi quando arrivo qua allungo. Anch'io lo faccio, anch'io lo faccio. Sai che è figo. Perché quando faccio così mi dimentico di allungare. A io volte. Mentre così riesco ad allungare di più quasi a tirare i pugni al pavimento. E sento uno squizio fenomenale. Non lo dico agli altri di farlo, ma a me piace farlo. Perché comunque dal fuori non è bellissimo. Cioè se vedi uno dal fuori che la fa così, dici ma cosa sta facendo, no? Però, minchia, tanta roba. No, io mi trovo. Infatti anch'io adesso la volevo fare così, poi ho detto magari mi insulta. No, no, va. Vai qua, vai da solo. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Un. Sette. Un. Otto. Bam. Novi. Bam. Da. Dieci. Ultima. Ultima. Ultime. Va. Stop. Sei bellissima. Sei fantastica. Ma ti posso chiedere una mano? Una piccola mano. Solo per il primo colpo. No, stop. Tu eri. Mi so sentire. Sì. Bici pito qua l'ho reclusito. No, poi è tantissimo. È tantissimo ma devo stare un attimino. Aspetta. Va bene tutto il discorso, però qua era troppo. Fammi scalare. Mi sento come primo. Mi strappo ancora. Dai ci siamo. Forza. Testa bro, su. Basta. Basta. Adesso questo modo diverso di fare le croci. Sempre con un buon peso. 16 mers. Per spremere di più il petto alla fine. Perfettamente sotto a cavo. Fantastica. Mamma mia che bella. Vedo l'ora di farla. Devo fare i tuoi stessi colpi, socio. Quanto sei? 10. Dai. Non ti fermare mai perché io dopo devo fare le tue stessi colpi. Quindi vai con un cavallo. Vai. Quanto siamo? Quanto sei? 15. Dai. 16. 15. C'è stato. Dai, dai, dai. 18. Fino a 20. 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 Ultima. Ti aiuto a solo a chiudere. Ti aiuto a solo a chiudere. Spingi te. Vai. Via. Dai, 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 dai. Stop. Va bene. Salire di più con le braccia però. Esatto. Non scomporti. Massimo. Così. La testa deve rimanere sempre in quella posizione. Devi ingobbirti di più rispetto a prima per avere più pump nel petto. Chiudi. Cerca di allungare anche un po' di più le braccia verso la fine come dovessi tirare un pavimento. Allunga, allunga, allunga. Gli ultimi 5 centimetri allunga. Come se dovessi dare un abbraccio. Bravo, così. Forza, forza, forza. Con la 2. Forza. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forza. Forza. Allunga, 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 allunga. 2, forza che abbiamo finito. Su. Allunga. Dai un abbraccio finale. Bravo. Ben salto. La sua, forza. Ben salto. No.